ciao e bentornati su mondo cosmetic oggi un nuovo video per la rubrica scopriamo insieme un prodotto i brochet allora vi parlo di un prodotto che a me personalmente piace molto nello specifico rughe e compattezza trattamento vegetale notte della linea serum allora la linea serum è una linea antirughe appunto della Yves Rocher e si divide in tre diciamo tra virgolette sottolinee ognuna dedicata per un determinato tipo di pelle o per una determinata esigenza e fascia di età nello specifico questa è la rughe compattezza il principio attivo della linea serum è l'erba cristallina è una pianta originaria dal deserto sudafricano dalla grande potere antirughe il secondo principio attivo nello specifico proprio appunto della linea rughe e compattezza è la gomma di acacia la gomma d'acacia è utile per riattivare la produzione di collagene e acido ialluronico voi sapete benissimo che la Yves Rocher non utilizza di collagene o acido ialluronico sintetico nei propri prodotti ma appunto utilizza il vegetale attivo che serve a creare la produzione naturale di questi componenti che ovviamente sapete sono i responsabili diciamo riattori ecco diciamo proprio là del termine diciamo quasi giusto per la struttura cutanea quindi è quello che ci permette di ristrutturare a fondo la nostra la nostra pelle e quindi averla luminosa brillante e senza rughe quindi è fondamentale per noi utilizzare la gomma di acacia che ha proprio questo scopo cioè quello di riattivare la produzione del collagene e dell'acido ialluronico naturale allora questo qui cos'è in particolare allora è un prodotto che viene utilizzato di sera o meglio di notte viene sostituito alla crema notte e ha un'azione di peeling però piuttosto che essere un peeling aggressivo questo è un peeling molto delicato quindi per chi è indicato per quelle persone che hanno voglia di diciamo avere un'azione diciamo sulla propria pelle e renderla di nuovo brillante luminosa quindi avere proprio una rinnovazione cellulare quindi andare a riempire le lughette avere i tratti più distesi ovviamente sapete che un trattamento di peeling da un estetista ha un costo abbastanza elevato noi possiamo farlo a casa utilizzando questo prodotto due volte alla settimana l'importante ovviamente è andarlo a utilizzare su una pelle che non è irritata danneggiato quant'altro quindi su una pelle normale che ha bisogno di essere rigenerata si utilizza dopo ovviamente la detersione classica quindi dopo aver fatto la nostra skin care routine serale quindi dopo esserci le terse abbiamo tonificato in sostituzione della crema notte viene utilizzato questo prodotto proprio perché all'interno contiene questi due ingredienti principali di cui vi ho detto prima riesce a piano piano ogni volta che lo utilizziamo andare a ristrutturare quella che è la nostra pelle diciamo che ha un'esfoliazione naturale per cui non avremo mai una pelle arrossata non avremo mai una pelle diciamo tra virgolette irritata da questo peeling al contrario al mattino ci sveglieremo con una pelle più luminosa più distesa più più bella insomma la texture è molto particolare perché non è ne in crema non è un olio non è un gel questo è una texture gel olio ve la faccio vedere è stata scelta proprio questo tipo di texture perché è una texture che idrata però nello stesso momento riesce ad esfoliare la pelle in maniera molto 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 delicata ve la faccio vedere un pochino sperando che si veda se vedete qualche residuo per una vecchia recensione allora vedete lo faccio vedere proprio mentre scende eccola qua allora questo è una si utilizza vedete la consistenza ve la faccio vedere eccola qui allora è una consistenza questa che quando l'andate a stendere risulta essere molto appunto idratante perché sentite proprio come se il gel fosse proprio un olio con consistenza gel quindi riesce ad essere molto idratante molto facile nella stesura non dà fastidio una profumazione molto delicata molto bella mi piace tantissimo e non si riesce mai ad assorbire completamente cioè nel momento in cui voi l'andate a mettere sul viso non sentirete mai che a un certo punto è assorbita proprio perché questa formulazione deve agire sul viso tutta la notte infatti noi una volta che l'abbiamo stesa su tutti su tutto il nostro viso ovviamente andando ad evitare quelle che sono le zone del contorno labbra o magari proprio la zona del contorno occhi l'andiamo andiamo a dormire l'odore è meraviglioso e al mattino quando faremo la nostra routine mattutina quindi la detersione eccetera eccetera cioè noi vedremo proprio che il nostro viso sarà molto più luminoso più idratato non dà fastidio non brucia non crea reazioni è molto delicata ed è proprio questo tipo di formulazione che voi vi accorgete che c'è ma che non mi dà fastidio quindi veramente vi sarà molto confortevole vedete io la sto continuando a massaggiare io sento che si è assorbita peccato come non potete sentire io sento che si è assorbita ma comunque io sento sotto la mano che c'è un prodotto che mi sta dando ad agire sulla pelle quindi è veramente secondo me eccezionale io me ne sono innamorata infatti io con tutto che ho una pelle molto sensibile la utilizzo una barra due volte a settimana io la utilizzo e devo dire che piano piano utilizzando la riesco a vedere veramente la differenza sulla mia pelle ma già vi ripeto al mattino quando vi svegliate trovate la pelle molto luminosa è importante dirvi che il prodotto è composto dal 98 per cento di ingredienti naturali è senza siliconi senza oli minerali e senza parabeni io ogni tanto guardo qui perché ho degli appuntini perché non voglio dimenticare niente quindi preferisco guardare ogni tanto quindi ricordatevi è in sostituzione del trattamento notte quindi dopo la skin care normale si applica questo e si va a dormire al mattino si rilava il viso e si fa la skin care classica normale e vedrete già la differenza ha al suo interno 30 ml di prodotti appunto all'erogatore con la pompetta vi devo dire che secondo me è da provare soprattutto per quelle persone che amano andare dall'estetista o fare dei trattamenti cosmetici e appunto in questo caso il peeling perché è un'ottima alternativa molto diciamo molto più pratica perché la fate a casa il costo è sicuramente molto più basso e piano piano riuscirete ad avere proprio un rinnovamento della pelle quindi veramente da provare spero che questo video vi sia stato utile vi ricordo che io sono capogruppo per cui laddove vogliate soffrire di uno sconto del 15 per cento vi va di iniziare a provare questa attività basta che mi contattate e io sarò felice di aiutarvi se vi è piaciuto il video pollicino in su se non siete iscritti al canale iscrivetevi e nel caso se vi va di rimanere aggiornati sui prossimi video attivate la campanella per non perdere nessuna novità vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacio grande ciao